E ciao Ciccia, Franci, Francesca Parmigiano e i tuoi amici, un saluto da parte mia, grazie della cartolina, mi è arrivata oggi, 24 luglio 2015, è arrivata perfettamente a destinazione, come vedi, che ti posso dire, ti ringrazio del bel pensiero che mi hai scritto, comunque ti ho fatto anche una foto di questa cartolina per farti vedere che è arrivata, l'ho postata su Facebook, e valla a vedere, insomma, dove l'ho postata nel mio profilo, quando ti colleghi su Facebook, intanto metto questo video su YouTube, così a meno vedrai anche questo video, basta che vai su mio canale Umbria Foligno, oppure tramite i video che ho messo nel mio profilo di Facebook, trovi il mio canale, basta cliccarci sui video, e poi scorrendo i miei video, vedi anche questo video, e che ti posso dire, oggi anche l'onomastico di mia madre, che è il sessantasettesimoonomastico, siccome è Santa Cristina oggi, e quindi ho postato anche una cosa su Facebook, su Santa Cristina, che poi la vedrai quando vai sul mio profilo, vedi tutto, comunque, davvero, davvero bella questa cartolina, e grazie del bel pensiero, e chi mi volesse scrivere qualche cartolina, l'indirizzo lo vede, lo vede, se non me lo chiede, ciao! Ciao, ci ciao, Franci, Francesca Parmigiano, ciao, e anche i tuoi amici, ciao!